Il progetto dei materiali è un progetto che inizia contestualmente a quello che è il progetto di design e quindi delle forme di un modello. Facciamo una continua esplorazione di quelli che sono i mondi di design intorno a noi per raccogliere idee, stimoli, nuovi materiali, nuove tecnologie e poi ci basiamo su questo lavoro di ricerca, di scouting, basiamo su un'analisi attenta di quelli che sono i valori tradizionali del brand e su quelle che sono le necessità, i gusti e i dissidi di vita del cliente. Da lì creiamo delle parole chiave, dei concetti che ci guidano durante tutto lo sviluppo del materiale, delle immagini di riferimento e cerchiamo poi di declinare in soluzioni applicative di produzione queste parole chiave. Su 500L le parole chiave principali sono state direi la tridimensionalità, la tattività, il contrasto materico, l'approccio contemporaneo, l'identità iconica, il contrasto cromatico e la presenza del body color negli interni come elemento di continuità con 500. 500L ha al suo interno due ingredienti fondamentali, uno è l'heritage e la continuità da un punto di vista emozionale della 500, dall'altro invece è la contemporaneità, l'interpretazione di alcuni stilemi un pochino più tradizionali con un linguaggio assolutamente attuale e contemporaneo. Per il progetto 500L abbiamo individuato tre ambienti, tre allestimenti interni che hanno un carattere e una personalità molto diversificata tra di loro. Qua siamo nel mondo pop che è caratterizzato da alcuni elementi distintivi che sono il body color su plancia in continuità con la 500L e che sarà disponibile in quattro colorazioni diverse, il rosso, il bianco, il nero e il grigio metallizzato. I contrasti cromatici sono estremamente importanti su questo allestimento che è un allestimento senza compromessi, è un allestimento determinato, brillante, dinamico e poi l'approccio grafico con questa nastratura di poliuretano sui sedili che dà appunto un linguaggio grafico assolutamente contemporaneo. Qui siamo nel mondo easy per una tipologia di clienti che vive l'auto come un momento di condivisione o uno spazio per stare con gli amici, quindi uno spazio di aggregazione o con la famiglia per cui abbiamo inserito dei colori chiari, i contrasti sono diventati più morbidi, i materiali sono funzionali, pratici, la plancia è rivestita con un tessuto spalmato e i sedili sono caratterizzati da questo motivo grafico che è stato cognato un po' dal logo Fiat in prospettiva e che diventa oltre a un elemento grafico anche un elemento di comfort. Questo è l'ambiente lounge destinato ad un cliente che ama distinguersi con uno stile di vita elegante, i colori diventano più formali, più rigorosi, l'accoppiamento dei materiali è estremamente interessante da un punto di vista sensoriale, materiali dall'aspetto gommato ma interpretati con questo linguaggio un po' heritage, un po' vintage come vedete sulla plancia si combinano invece a materiali molto più morbidi, a microfibre, dalla fattilità confortevole per i sedili. La grafica è interessante, ci tengo a citarla perché è una frase presa da Oscar Wilde Mer Colors can speak to the Earth in many different ways ed è un po' il motto del nostro modo di vivere il nostro lavoro e la nostra quotidianità.